Visto che siete qui, magari potreste rifare la scena per noi. Ora che lo sto dicendo suona strano, sembro un idiota, vero? No, bello, continua! Sì, ok, grazie, vecchietto. Pensavamo che potreste, tipo, rifarla, ma senza toccare niente. Rifare per filo e per segno la scena della breccia. Chiedo scusa, lei si chiama vecchietto? Sì. E lui invece si chiama bocca a sacco? Sì. Ok! Scappiamo da questo posto assurdo. Normalmente sarei d'accordo con Julius, ma riflettevo su una cosa. Sono pazzoidi, d'accordo, ma ci hanno sollevati tutti da terra come se non pesassimo niente. I minotauri non volano, questi tizi potrebbero darci un vantaggio. Un esercito alato è esattamente il tipo di cosa che Amazone spera che ha ruoli. Abbiamo bisogno di questa gente, facciamo quello che vogliono. Ah, ok. Se dobbiamo farlo, voi dovete nominarmi dittatore artistico della produzione. Colty è un po' troppo giovane per recitare. Ho già 43 anni suonati. E Darboulton ne ha 47. Ovvio. Cosa, cosa, cosa? Perché ho saltato la giornata del polmone? E due, e cedde due. E tre, e cedde quattro, e cedde quattro. Quello sono io. Quello è il sotto fan club di cedde. Evviva! Beh, è ovvio, ragazzi, sono uccellotauri, come me, riconoscono l'eccellenza. Ok, facciamolo. Lo faremo, ma voi in cambio farete qualcosa per noi. Crandy andrà completamente fuori di penne! Chi è Crandy? Chi è Crandy?